Multiservizi Ancona Multiservizi Ancona si prepara ad entrare col 10% in Estra. Il Consiglio di Amministrazione di Estra proporrà all'Assemblea dei Socii di dicembre l'ingresso come nuovo socio della Multi Utility Marchigiana. Al via la nuova edizione di Energicamente, il progetto educativo di Estra e Lega Ambiente all'insegna dello Smart Living. A Energicamente hanno già aderito 350 scuole e 12.000 studenti in tutta Italia. Il presidente di Estra, Francesco Macri, presiede la giuria della seconda edizione del premio giornalistico Estra per lo Sport, vicepresidente Luigi Ferraiolo, presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Due mongolfiere Estra Prometeo, la ruota panoramica con il logo Estra, la pista di pattinaggio abbinata alla Multi Utility Energetica. È il Natale di Ancona, esclusiva Estra Prometeo, main sponsor dell'evento.